Le lasagne della bolognese, fior di primi, si rinvengono in 6 minuti nel forno microonde. Controlla che il fondo della confezione sia caldo. Uso la paletta per mantenere compatta la lasagna quando la metti nel piatto. Il piatto è già ottimo così, ma se vuoi dare un tocco puoi aggiungere un filo di olio extravergine di oliva e un po' di parmigiano.